ci siamo, ci siamo, vai a va per troppo 2, 3, 2, 1 1 gioco no, pre-play gioco, 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 gioco non c'è la sentita ecco Grazie. 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 Perché lì i cambi e i falli sono 2 mm, capito? Allora è meglio che decide lui e basta. Sì. Ovviamente se tocco io uno, tu che puoi. Quello sì. Un millesimo di secondo potrebbe essere cambio. Sì, sì, sì. Però un millesimo di secondo... Certo, sì, sì. No problemi. Vai, vai, vai. Quando vuoi. No, palco. Buon presto. Bravo. Bravo, Luminio. Buon presto. Bravo. Grazie. 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 Ch наших. ChBecause. va a bastare Grazie. Sì, 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 sì. Tiro, tiro. Sì. Grazie. Siamo sopra. Siamo 2 a 1. Dai, Tambo. Sì. Sì. Ci sta. Grazie, grazie. Grazie. Davvero, meglio, i balicami, fatti, padeva. ciao. Paralo, va bene. Non va un cazzo. 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 Fallo, no? Che bastardo. Non va un cazzo. Non va un cazzo. Non va un cazzo. Non va un cazzo. No va un cazzo. No va un cazzo. lancio. e la palla è entrata. prima che cazzo. va un cazzo. va un cazzo. va un cazzo. va un cazzo. no va un cazzo. va un cazzo. va un cazzo. vai un cazzo. non va un cazzo. 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 bravo. bravo Iồngzio. Grazie! No, 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 era suba. Poi l'ha toccato il mio. C'è il raccambio. Il raccambio, poi il cambio. Tranquillo, no? Ci vanno nelle pistate resta per essi colpi. 3! 3! 3! 3! 4! 5! 5! 5! 5! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 7! 6! 7! 7! 7! 7! 8! 8! 9! 8! 9! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! Grazie.